Buonasera a tutti, sono il dottor Max che vi parla della Tanzania, come al solito. Stasera parliamo del piano B e piano C, destinazione Tanzania, ma anche Zanzibar. Io sono dovuto ripartire con la registrazione stasera, quindi ho perso il titolo. Avevo intitolato il titolo Espatriare profilo del consulente. Vorrei dedicare un pochino di attenzione a questo aspetto qui. Io l'ho accennato molto brevemente in passato e non intendo parlarne poi più di tanto. Però volevo parlarne perché credo che sia questo uno degli aspetti fondamentali che tutti coloro che devono espatriare devono considerare e che purtroppo non si considera per diverse ragioni. Allora, naturalmente saluto tutti. Inizio questa breve... C'è nessuno per caso che ha delle domande? Se avete delle domande possiamo anche parlarne e poi dopo vado avanti con la presentazione. Se no non ci sono problemi. Allora, se non avete domande voglio dirvi questo. Vi racconto un pochino la mia storia, brevemente. Perché tanto, insomma, quando appunto si fa anche un lavoro del genere, ma anche nella vita normale, quello che conta sono le esperienze. Le esperienze vere, quelle che si fanno direttamente sulla propria pelle. Allora io avevo un'attività molto ben avviata a Firenze, Scandicci. Io avevo messo a punto, poi con mia moglie, un sistema per perdere peso in salute. Molti di voi ricorderanno, se siete in Italia, i cosiddetti centri di dimagrimento. Negli anni Ottanta furono molto popolari. Questa azienda, dalla Francia, appena in Italia, ebbe molto successo. Noi qui si lavorò con loro per cinque anni. Poi una volta scaduto il contratto, il contratto di franchise, sviluppammo una cosa per conto nostro. Il concetto era molto simile. E ruota intorno a queste fasce riscaldanti, più comunemente chiamate termocoperte, che vengano applicate intorno al corpo e che stimolano la sudorazione. Io ne potrei parlare per ore e ore e ore e ore di questa cosa, perché è una cosa che ho sviluppato io nel corso di 25 anni. Però cercherò di essere in sintesi. Quando poi nel 1992 è nato il mio primo figlio, l'attività era già aperta, avevo anche un altro punto vendita a Lucca, e quindi ero piuttosto occupato. Però nonostante tutto mi occupavo ancora di pubblicità. Quindi nel 1992, quando è nato il mio primo figlio, io nel 1990 ho dovuto fare la scelta, o facevo una cosa o facevo l'altra. Quindi ho deciso di dedicarmi a questa nuova attività per me, perché ho visto i risultati e mi sembrava una cosa molto interessante. Vi devo dire che ho studiato per circa quattro anni anche medicina, ecco per quello che tante volte qualche cosa lo chiappo. Cosa questa, anche se poi ho deciso di non fare il medico, anche se, e questa cosa qui mi è stata poi molto utile, per dire quasi fondamentale, per la messa a punto di un sistema, che per o male è un sistema per la salute. L'attività andava molto bene, è nato il mio primo figlio, è nato il secondo figlio, due o tre giorni dopo, una settimana dopo. Le cose in Italia, lo sapete, sono sempre andate su e giù, e per noi è abbastanza normale e va bene così. Il pool, famoso pool di Torino, emise, in italiano, mandò l'avviso di garanzia a Berlusconi quando a Napoli presiedeva un incontro sulla criminalità internazionale. Proprio lo stesso giorno, proprio, a preciso. E io ho deciso, ma no, ma non è possibile, che paese è questo qui, ma come non è mai successo in nessuna parte del mondo, che un primo ministro, un presidente, riceve una disegaranzia, proprio nel momento in cui rappresenta la nazione, e tutti lo guardano. Cioè, sembrava proprio un po' una cosa anche appesa di giro. E quel giorno lì decidi di lasciare l'Italia. Ora, tra dire e il fare c'è di mezzo il male. E a me mi ci sono venuti cinque anni, dal 94, andate a vedere, il novembre del 94, il giorno dell'incontro, il giorno dell'avviso di garanzia a Berlusconi, al settembre del 99, quando poi siamo partiti, sono cinque anni. Quindi ho dedicato questi cinque anni, non soltanto a sviluppare l'attività, che comunque sia era ancora in pieno ritmo, e si lavorava praticamente con doppio turno, dalle sette la mattina alle nove la sera. La domenica, mi sembra, ci obbligarono a chiudere. Mi ricordo, dovetti battagliare per un mese o due perché non mi volevano dare il doppio turno. Perché dicevano che la sera non potevo stare aperto perché era pericoloso, per la sicurezza, quando all'angolo della piazzetta c'era un bar da una parte, un'altra parte all'altra. Allora io picchia, 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 siccome sono anche abbastanza testato, riuscì a ottenere l'autorizzazione. Quindi immaginate, immaginate quello che poi io ho speso in questi cinque anni andando su e giù in America. Quindi quando voi entrate nell'ordine di Deore, io sono andato là per lavorare, magari molti di voi non verranno qua per lavorare, però dovete capire che fare un salto di questo tipo anche qualora si dovesse fare per conto proprio o anche con qualche solda in tasca. Le cose si dice guarda prima di saltare, è un po' la stessa cosa. Poi dopo non si è contenti della scelta fatta. Molti vanno in Costa Rica, molti vanno in Sud America, ma io li faccio tutti l'in bocca al lupo possibile, ma io so già che alla maggior parte di loro succederà. intendiamoci, qua siamo in Africa e anche qui purtroppo ci sono tante cose che funzionano all'africana. Poi io vengo da New York, vi potete immaginare in che situazione sono. Io sono abituato a lavorare un po'. Anche in Italia ho sempre lavorato, ho sempre stato rompiscatole, ho sempre lavorato un po' boh alla tedesca, alla svizzera, non all'americana, perché l'America non è il paese che si vende. Comunque ho fatto tutta questa storia qui per arrivare al discorso consulente. Quando io mi sono dovuto spostare ho preso, quando non avevo parenti o amici in America, e mi sono dovuto spostare, ho pensato di contattare l'associazione le chiesi nel mondo che ha un po' sedi in tutto il mondo, un po' come in Australia, dove vai, ci sono loro. Quindi io sono andato la prima volta, ho preso contatto con loro, sono andato a San Francisco perché mi piaceva andare in California. Purtroppo lì non ho trovato le persone giuste e diciamo così ho ripiegato Buonasera Lara, buonasera. Sto parlando un po' della mia storia di come mi sono trasferito in America. e ora poi capirai perché. Ho preso contatto con l'associazione Lucchese del mondo. Buonasera. Non ha funzionato a San Francisco e allora ho ripiegato a New York. A New York ho trovato una persona squisita. Ora non voglio fare con l'amore che si sono messi a disposizione. Posso dirvi che in linea di massimo non ha fatti voler aeree e che compravo con lui la sicurazione non è non mi hanno mai chiesto un centesimo e qui ovviamente anche adesso ho una grande stima dal punto di vista così non si sente bene sento poco mano diciamo sbaglio o sentite anche voi a scatti Massimo? sì anche io lo sento a scatti Massimo ti sentiamo a scatti questo metodo questo sistema di rimanimento in salute che non funziona senti bene Massimo non ti sentiamo più Massimo ti sentiamo da solo devi ripare non lo scrive mi sentite? pronto? sì adesso sì sì oh madonna mia scusatemi purtroppo dicevo franco bisogna vedere di risolvere prima possibile il collegamento è una sofferenza adesso mi sentite allora dicevo che dunque dicevo che in America si dice location 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 cioè vuol dire punto vendita perché il punto vendita è fondamentale tante volte apri un piccolo bar ristorante è piccolino ma in un bel punto magari da angolo dove si ferma l'autobus questa cosa qui e fai soldi apri un bellissimo locale accanto dove non si ferma l'autobus l'America è piccata e di queste cose viene ancora molto più che da noi e dopo poco vai fuori business ora io noi non siamo andati fuori business intendiamoci la storia è stata completamente diversa siamo rimasti lì per 13 anni però il punto vendita purtroppo è stato sbagliato ora mi fermo qui non mi voglio annoia troppo su questa storia perché il punto centrale non è la storia di quello che è successo in America ma la figura e il profilo del consulente al quale vi affidate allora vi faccio adesso subito una diciamo una parentesi sul profilo dell'avvocato quando arrivate lì dovete fare il visto dovete fare tutte le pratiche di visto comunque e la figura dell'avvocato soprattutto se andate a fare business è fondamentale io purtroppo ho avuto molti problemi anche da quel punto di vista lì perché questi signori mi hanno indirizzato nella maniera sbagliata però tenete presente quindi informatevi molto bene sugli avvocati e non so come posso dirvi che tipo di raccomandazione posso dare ma andate a parlare almeno con due e soprattutto cercate di capire anche con loro l'esperienza vera che hanno per le pratiche che devono poi fare con voi perché non tutti gli avvocati sono specializzati negli stessi tipi di visti poi sapete New York è New York magari in Tanzania poi comunque andare anche da un'altra parte probabilmente è anche tutto più facile va bene comunque state molto attenti poi volevo arrivare a dirvi che l'avvocato vi fa quello lì e basta va bene non vi fa nient'altro vi fa questo qui e basta potete chiedergli delle informazioni però in linea di massima vi fa quello e basta va bene quindi è una figura incompleta sotto questo conflitto voi di chi avete bisogno voi avete bisogno di qualcuno tipo il dottor Max no in un certo senso io vi dico questo devo dire anche con molta umiltà perché bisogna sempre mantenere un profilo secondo me di questo tipo però bisogna che vi affidate a persone che hanno fatto qualcosa in vita loro non che sono state a sedere sempre dietro una scrivania e che non hanno mai concluso niente in vita loro che hanno girato il mondo che hanno provato a inventare qualcosa e ci sono riusciti che hanno tentato provato a ottenere pubblicazioni su riviste scientifiche o scrivere articoli su riviste scientifiche e scientifiche e ci sono riusciti che hanno provato magari a scrivere una trilogia di 1042 pagine sul nuovo ordine mondiale o qualcosa semplice diciamo così l'hanno fatta e l'hanno fatta bene insomma mi fermo qui però per dire qualcuno che ha fatto qualcosa e che è visibile che ha una visibilità e che quando poi gli fate delle domande e è molto importante che vi facciate proprio una lista di domande e che poi facciate anche il vostro lavoro a casa vi dia le risposte giuste se non ha le risposte giuste il consulente professionale cosa fa ti dice non lo so ci penso mi informo e poi te lo dico allora il lavoro che dovete fare voi è molto di più di quello che pensavo non è che ve lo dico per scoraggiarvi però io lo vedo anche in questa piccola esperienza che sto facendo oggi in questo momento sulla consulenza oro e io ho messo insieme un piccolo report il sabato faccio anche un po' di consulenza oro chi mi conosce lo sa e il sabato facciamo gli interventi e io gli interventi e il sabato ricordo sempre di leggere il sacco il report che ho fatto sull'oro perché sono poche pagine ventina venta pagine si legge anche abbastanza bene è semplice però uno si fa un'idea immagina che sull'oro non si sa quasi niente nessuno e quindi almeno si fa un'idea però quello non basta mica ci sono da leggere le integrazioni due pdf e poi c'è sicuramente da fare anche delle altre scelte però purtroppo le persone non vogliono leggere pretendono di fare le scelte giuste sempre a condizioni economiche magari spendendo niente e però non vogliono leggere non vogliono documentare documentarsi ecco vi suggerirei di non fare questo errore e cercare di raccogliere oggi c'è internet per fortuna si trova quasi tutto su internet eh di ehm di 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 raccogliere di documentare il più possibile sulle due destinazioni che vi suggerirei suggerirei di selezionare in questo caso qui io la Tanzania ce la metterei sempre ma perché ce la metterei sempre ce la metterei sempre non perché ci sono io ce la metterei sempre perché è stato l'unico grande paese al mondo che non ha mai avuto la pandemia è molto semplice ora bisogna chiedersi perché non ha mai avuto la pandemia io un'ipotesi l'ho fatta chi mi conosce la sa e poi magari se non la sa ricordo che si può documentare un po' vedendo i miei video eh sono tanti quelli sulla Tanzania e quelli sulla consulenza ora sono gli ultimi video che trovate sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di Youtube va bene e però poi ci sono anche altri interventi chiacchierata tra amici sono quelle quella serie di di sei mi sembra video anche più alti tre che li potete ascoltare vi parlo vi dico tante cose della Tanzania e questo naturalmente vi serve anche per conoscere me anche dal punto di vista caratteriale perché dico questa cosa qui e la chiarisco subito perché io non amo perdere tempo e non 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 posso pensare di avere a che fare più di tanto con persone che oggi mi dicono una cosa domani mi dicono un'altra che non so di qui che non so di là che non vogliono nemmeno pagare una minima consulenza e pretendono di chiamarmi come ho fatto in passato 4 o 5 volte che sono soltanto per di tempo ecco bisogna cercare di lavorare minimamente in maniera professionale un minimo io non intendo dire che tutti devono essere super professionali essere corretti ed essere professionali quello che si intende comunemente professionale poi per andare all'estero ci vogliono tre cose l'umiltà e questa la metto in prima fila perché uno che viene qua e fa lo sbruffone fa sicuramente una brutta fine qui come in America tutte le parti poi noi italiani all'estero siamo anche ormai etichettati non abbiamo una grande nomenia questo ve lo dico chiaro secondo bisogna avere un po' di soldi in tasca perché un po' di soldi purtroppo servono sempre e terzo bisogna avere la motivazione giusta cioè bisogna pur nella difficoltà del momento io ne ho parlato tante volte anche del purtroppo non posso dicono sempre essere ottimista per quello che credo vedo che succede perché se no sarei rimasto in America e non avrei fatto un grande casino per venire qua eh perché poi io anche sono partito decise partire sono partito non sto a mia dieta nessuno ecco però bisogna sempre mantenere una certa positività come attitudine c'è un problema si guarda al problema ci si pensa alle varie soluzioni e si cerca di lavorare insieme per trovare la soluzione migliore eh senza polemiche senza drammi senza storie perché anche nel caso più semplice ci sono di trasferimento ci sono sempre dei problemi e ci saranno sempre ecco quindi diciamo quindi il profilo del soggetto che voi dovete eh trovare guardate rappresenta almeno il 30% del successo dell'operazione potrei dirvi anche il 50% perché se se imbroccate in uno stupido su tutto rispetto magari qualcuno che è stato raccomandato sapete come si fa in Italia raccomanda quello raccomanda quello ti vai lì e ti fidi ecco non fate questo errore non vi fidate di nessuno fidatevi soltanto nel momento in cui verificate la qualità della persona allora sì allora naturalmente un minimo di rischio ci vuole e va bene occorre che sappiate tutto 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 però una persona di un certo rilievo ha sempre una visibilità altrimenti non è di rilievo è molto semplice è un altro brontolone io le chiamo i brontoloni che comunque fanno sempre più soldi di me eh eh brontoloni quando si mettono a brontolare vi venderebbero anche l'aria fritta ecco comunque ecco io mi fermerei qui perché in linea di massima eh credo di avervi detto tutto avete delle domande in relazione a quello che ho appena detto o anche altre cose eh Renata buonasera buonasera Renata buonasera a tutti scusate ho avuto un impegno niente ho appena finito di di parlare del profilo della persona alla quale vi dovete affidare nel momento in cui è andata all'estero che è molto importante ai fini del successo di tutta l'operazione e chi sarebbe questa persona a cui bisogna affidarsi se venite in Tanzania magari eh magari ecco si chiama dottor Max certo certo ok sì sì pensavo si parlava in generale eh se andate non lo so non ci sentiamo più mi sentite adesso sì ok finalmente allora dicevo ehm eh nel momento in cui vi dovete spostare prenderete contatto con qualcuno no anche se dovete andare in Albania ci sarà qualcuno attraverso conoscenze e prenderete contatto con qualcuno e vi affiderete a qualcuno no ecco eh nel fare questa operazione state molto attenti state attentissimi questo che dico perché la persona naturalmente dovrebbe essere una persona che ha una certa esperienza una certa cultura una certa preparazione e soprattutto una persona di esperienza insomma una persona anche pratica una persona che ha girato il mondo che 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 insomma che ha che ha la possibilità di darvi le dritte giuste ecco allora avete domande? allora io ho caricato sul video sul canale un video ehm che è stato realizzato mi sembra ora fammelo controllare poco tempo fa in cui fanno un'intervista anche se molto breve devo dire a uno dei miei consulenti Stefano De Amicis e sarebbe lui sarebbe il mio consulente per diciamo così i grandi progetti per la Tanzania eh e vedetevela vedetevela visto già visto molto bello oh bene è semplice ma lui è una persona molto molto preparata molto qualificata per qualsiasi investitore grosso investitore che vuol venire insomma sono abbastanza tranquillo è con lui dunque anzi più che tranquillo dunque di dunque in linea lo dico per magari chi non lo sa c'è anche Franco Lazzarini che si è spostato definitivamente dall'Italia a Zanzibar circa due settimane fa se c'è qualcuno che vuol fargli delle domande buonasera Isabella buonasera c'è qualcuno che vuol fare delle domande a Franco lui è proprio fresco appena arrivato magari è sempre stato disponibile lo ringrazio potete fare naturalmente delle domande anche a lui ci sono io ho una domanda per Franco prego quante volte sei andato a Zanzibar prima di prendere la decisione di trovare casa allora mi ero informato abbastanza bene prima di andare in perlustrazione poi sono andato verso fine marzo dell'anno scorso circa dieci giorni e ora sono qua da due settimane ti sei informato tramite Max beh avevo seguito Max ma poi ho fatto anche delle ricerche per conto mio sulla zona un po' in generale su Zanzibar perché a me interessava Zanzibar perché a me interessa Zanzibar tutto sommato devo dire che è stato un po' azzeccato ok grazie niente una domanda di ordine pratico a Franco quando sei andato lì quando sei andato lì a Zanzibar hai comprato casa se ho ben capito e era già arredata oppure hai dovuto portare no 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 io quando sono venuto qua la prima volta diciamo in perlustrazione non avevo nessuna idea di cosa prendere è stato qualcosa che è maturato dopo quando sono ritornato mi sono messo un po' alla ricerca e poi con l'aiuto di Massimo ho trovato questa casa che era unfinished non ancora ultimata c'erano dei lavoretti da fare ma roba di poco conto e diciamo che è passato quasi un anno da quando sono venuto la prima volta e da quando sono arrivato quindi c'è stato un bel po' di tempo di organizzare eccetera eccetera perché sembra sembra facile nel senso che compri prendi vieni qua bisogna pianificare un po' di cose è assolutamente necessario e quanto costa portarsi il proprio mobilio diciamo ecco allora ho capito io allora no no capisco allora i prezzi purtroppo dei container da quando c'è stata la psicopandemia sono montati di parecchio quasi il doppio e dipende quanta roba hai un appartamento di 80 metri quadri se ti porti quasi tutto ti basta un 20 piedi altrimenti devi passare a quello 40 piedi diciamo che la differenza di prezzo non è tantissimo da un 20 a un 40 piedi ovviamente non ha senso prendere un 40 piedi e riempirlo meno di metà per questo voglio dire il prezzo ti dico quello che ho speso io di un 20 piedi il container viene sui 6500 euro sui 6500 euro questo comprende che vengono a casa tua tu carichi dopodiché il container va sul porto e prende la sua strada e poi quando arriva ci sono delle tasse da pagare che sono il molo lo scarico del container dalla nave alla banchina tasse doganali eccetera eccetera e considera che sono la metà quasi 3000 euro 3000 euro nel mio caso io mi sono fatto fare diversi preventivi diversi preventivi avrò consultato 6-7 compagnie che tra l'altro non è facile perché non ci sono molte compagnie che fanno questa tratta qui perché non è una tratta diciamo molto come si può dire trafficata è una tratta che molte compagnie non la fanno si fermano a Dar es Salaam piuttosto che a Zanzibar quindi potresti anche valutare comunque di far arrivare la roba a Dar es Salaam poi però ti devi organizzare per portarla qui più o meno i prezzi sono uguali nel senso che ho trovato qualcuno che magari mi faceva qualcosa in meno però poi recuperavi con varie tasse da pagare perché magari lui non se ne prendeva carico quindi diciamo che sei sui 9.000 euro in 20 piedi tutto compreso tasse incluse eccetera sei su quel prezzo lì o può darsi che magari adesso scendano un attimino però non lo so ma a questo punto non conviene prendere dei mobili lì in Tanzania ecco allora ci fanno i mobili in Tanzania sì sì aspetta sì è vero infatti secondo me la mia opinione ti conviene portare quelle cose che qui fai fatica a recuperare a comprare perché qui sei su un'isola e di conseguenza alcune cose magari le trovi ma le paghi le paghi molto di più che da noi quindi mobili sì ti do ragione puoi comprarli anche qui non pensare di risparmiare moltissimo puoi anche farteli fare però devi avere pazienza ecco questo è il prezzo da pagare cioè pazienza perché qui c'è da aspettare però voglio dire oggetti tipo elettrodomestici quel tipo di cose lì ti conviene comunque assolutamente caricarle poi se si tratta di un letto di un tavolo di un armadio eccetera stavi parlando degli elettrodomestici sì gli elettrodomestici ti conviene portarli perché qui costano costano gli elettrodomestici costano e non è una grande scelta di elettrodomestici per quanto riguarda i mobili si puoi valutare di prenderli qua sul posto però non devi avere fretta ecco ci sono i tempi biblici in Tanzania no diciamo no biblici perché se te li fai fare qui non è che se uno come da noi si ok passa domani sai qui aspetti che ne so una settimana due settimane ecco se te li fai fare se no li prendi già fatti e spendi bene o male come spendi da noi se vuoi cosa seria se vuoi cosa seria se invece vuoi roba tra virgolette cinese insomma vedi te sì 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 ho capito grazie e solo che non riesco a capire 20 piedi che misura sono massimo tu che conosci le misure inglesi mi sembra 6 metri 20 piedi ecco sì più o meno 6 metri per 2 metri e qualcosa 2 metri e mezzo comunque è bello alto ce ne sta di roba loro dicono che un 20 piedi va bene per un appartamento da 80 75 80 metri quadri allora il mio 60 di quadrati quindi mi avanza ancora sì attenzione attenzione consigliere che comunque tu la roba la devi imballare e la roba imballata occupa più spazio di quella che effettivamente ti occupa in casa perché l'imballo riempitivo eccetera eccetera insomma non è che la prendi e la carichi così sul container il container si muove corre il rischio che la roba si rompa ho capito grazie scusa Franco ma vengono a casa col container allora se riescono cioè se tu hai un posto dove possono parcheggiare e quindi non ci sono problemi di manovra sì altrimenti funziona così loro ti dicono noi andiamo al cimitero di solito usano il cimitero perché il cimitero è un piazzale grande il cimitero c'è ovunque c'è ovunque e qui come nel mio caso ho dovuto andare al cimitero a portare la mia roba quindi ho fatto con un camion ho portato la roba al cimitero e poi ho fatto il trasbordo ti chiudono il container davanti a te e ti danno i codici dei sigilli allora mi sentite adesso? sì allora mi sentite? posso intervenire? sì sì pronto? sì ti sentiamo Massimo sei tu che non ci senti? mi sentite? sì sì allora allora dunque per quello che mi senti? sì no no ti sento ti sento allora se mi sentite sentite lo pare Massimo non ti sento sentiamo a scatti malissimo Massimo ti sei? mi sentite adesso? sì mamma mia che sofferenza allora scusatemi allora dicevo per quello che riguarda il trasloco i criteri da seguire sono secondo me i seguenti se uno ha degli oggetti di valore antichi o dei quadri degli armadi particolari sapete noi abbiamo tante cose di questo genere qui in Italia oppure al quale è affezionato anche se magari non è un oggetto affezionato quello lì naturalmente è un oggetto secondo me che dovrebbe insomma essere portato perché è un oggetto di valore un oggetto personale tutte le altre cose tutte le altre cose che di plastica cose di questo tipo naturalmente si trovano anche qua ecco però state attenti al discorso degli armadi gli armadi classici nostri che si trovano in Italia quelli belli grandi che ci si mettono tante cose dentro qua non esistono esistono soltanto degli armadi piuttosto grandi in genere a tre ante come ho comprato io a due ante però è tutta roba che viene dall'Asia dalla Cina quindi non è che sia nostro granché ecco quindi le cose economiche tenete a vedere le cose economiche non conviene ovviamente portarle quelle di un certo valore sì poi io ci sto già lavorando penso in un mesetto forse anche meno di riuscire a organizzare il trasporto direi quasi in maniera autonoma nel senso che io vi metterò in contatto con l'agenzia un'agenzia direttamente un'agenzia italiana per l'associazione italiano che vi seguirà in tutto e per tutto cioè che vi farà la consegna diretta a casa cioè fornirò io questo questo operazione qui voi non dovete voi vi dovete preoccupare soltanto del tipo di container che volete i 20 piedi sono 6 metri no i 20 piedi sono i 6 metri poi c'è il 40 piedi che sono 12 metri in linea di massima il 12 piedi è sufficiente per fare un traslop bene avete capito avete sentito quello che ho detto e naturalmente siccome hai visto anche i problemi che hai avuto te e poi lo so anche io perché io l'ho già fatto il traslop so che è un problema grosso questo qui ma io non l'ho potuto affrontare prima perché non avevo il tempo non avevo l'organizzazione per farla però mi sono riproposto di risolvere anche questo aspetto quindi nel pacchetto tra virgolette che che troverete che diciamo nel nostro accordo ci sarà anche diciamo così la consulenza bene avete capito c'è qualcuno che ha il microfono aperto Isabella per cortesia scusami perdonami c'è il microfono aperto allora avete altre domande sentite? sì no vediamo un po' se non ci sono altre domande vi fosse delle altre cose avete altre domande? allora allora tempo ora se trovo il consulente soprattutto per quello che riguarda l'acquisto di terreni che si può si può fare si può naturalmente fare bisogna stare un po' attenti perché qui non esiste il catasto nostro no ancora tutto un materiale cartaceo quindi nella stragrande maggioranza bisogna stare molto attenti affidarsi a dei consulenti fare tutto un lavoro di verifica sul terreno perché qui siamo in Africa ma non sono tanto stupidi vendono lo stesso terreno 4 o 5 volte se paghi magari ti chiedono 5 o 10 mila euro e poi spariscono e te quei soldi lì non devi verificare mi stanno molto attenti e mi voglio organizzare sia per quello che riguarda i terreni sia per quello che riguarda gli immobili in generale in maniera tale che quando poi io vi proporrò un immobile o un terreno qualunque cosa è già stata fatta la stima la verifica e tutti i documenti sono pronti per firmare il contratto ora tutto questo lavoro qui e Franco lo può aver capito perché c'è passato costa un sacco di tempo e un sacco di soldi sicuramente qualche soldo costa sicuramente però ve lo devo fare perché sennò questo dopo può sembrare come si dice non professionale purtroppo purtroppo ho capito che lo devo fare quindi le proprietà che vi proporrò saranno praticamente già tutte verificate sarà soltanto una cosa relativa che l'oggetto vi piace o non vi piace magari un po' di trattativa sul prezzo io cerco sempre di trattare il prezzo come se l'oggetto lo dovessi comprare io perché tanto vedete funziona così ti ricordi Franco quando siamo andati a trovare il tuo amico quel signore al quale siamo andati qui ci sono tre prezzi qui ci sono tre prezzi il prezzo che fanno tra tanzaniani il prezzo che fanno a un tanzaniano che è lì da tanti anni e che ovviamente fa la sua ile eccetera eccetera e il prezzo che fanno a un isungu l'isungu siamo noi siamo i bianchi sono tre che possono essere anche molto diversi l'uno dall'altro tra il primo il primo caso e l'ultimo il prezzo può essere anche il doppio sull'immobile quindi bisogna fare tutta una ricerca di mercato insomma stare molto 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 attenti perché se per esempio ti chiedono 50.000 dollari su una proprietà questi 50.000 dollari come dicevo magari possono essere il terzo caso il prezzo per uno straniero quindi bisogna sempre trattare il più possibile il prezzo è affidarsi a persone che poi vivono insomma che vivono gli azanzi però comunque in Tanzania che sono diciamo credibili o perlomeno affidabili sempre difficile però insomma bisogna provarci bisogna dare anche un po' di fiducia questa è una cosa abbastanza importante perché poi molti di voi naturalmente verranno qua o magari possono stare in affitto ma poi noi quando possiamo la casa la compriamo no avete altre domande ecco un'altra cosa sulla programmazione parlavo prima con Elena io ho due settimane ad aprile e mi sembra una e anche un altro cliente quindi non lo so chi è interessato lo prego interessata lo prego di prenotare prima possibile poi dopo non mi voglio trovare in una situazione in cui insomma siamo in difficoltà e quindi tenete presente che prenderò probabilmente due clienti al mese perché io quando sono a Zanzibar sono sempre in trasferta io abito a dare il salato quindi a Zanzibar vado sempre volentieri però è un po' una faticaccia venire e correre davanti e indietro e quindi ecco più di due clienti diciamo due settimane al mese poi devo fare le mie cose mi hanno consegnato Franco mi ha portato un bel libro da leggere sull'oro devo fare quel lavoro lì di integrazione al lavoro che io c'ho sempre con Stafari adesso mi deve partire un'altra iniziativa su metalli ecco quindi insomma con un minimo di programmazione si fanno le cose si fanno meglio c'è nessuno per caso che avrebbe una mezza intenzione tra voi che siete in onda adesso di venire diciamo da qui ad aprile ha una mezza idea di venire magari può venire a febbraio ad aprile da adesso ad aprile maggio se siete qui ad ascoltarmi vuol dire che qualcuno è interessato cioè si era interessato ecco va bene non fa niente l'hanno aspettato dell'ultimo momento e poi quando ricordo che i prospetti informativi no sul posizione gratuitamente ti sentiamo a scatti non ti sentiamo più Massimo come è andata via di nuovo e niente la linea stasera è la linea scusate la linea stasera è così dicevo il formato ebook della trilogia sul nuovo ordine mondiale è ancora è disponibile per chi mi segue quindi semplicemente mi potete scrivere anche su telegram oppure su sul mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri chiocciolaiaco.com e vi mando il link dove potete scaricare la cosa migliore sarebbe quello di scaricare e leggerlo farlo Fabio pretendo troppo dire di studiarlo Fabio ma però insomma almeno leggerlo dargli una letta aiuta sicuramente molto anche o no lo dico perché Fabio l'ha letto tutto il libro è anche uno di quelli che l'ha letto meglio ecco quindi sei sparito mi sentite adesso segni adesso no non ti si sente più Massimo sentite no non ti sentiamo pronto mi sentite ecco no facciamo una cosa via chiudiamo qui stasera ci sono troppi problemi di linea a meno che qualcuno abbia una domanda al volo se no ci risentiamo la prossima settimana è una sofferenza lavorare ci sono domande magari al volo così se no chiudiamo via io comunque naturalmente sono a disposizione se mi volete anche mandare un messaggio insomma ci sentiamo ecco non è che va bene se non ci sono altre domande io chiuderei qua auguro la buonanotte a tutti e ricordo l'appuntamento per chi è interessato a diversificare comprando oro il sabato alle nove adesso la tua settimana abbiamo anche annunciato possiamo vendere oro sfuso vi raccomandiamo ovviamente la raffineria dove potete andare a comprare a un prezzo molto buono e altrimenti possiamo sicuramente sentire il prossimo mercoledì io auguro la buonanotte a tutti e grazie ciao alla prossima grazie 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 grazie